Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico è un momento regolare sulla rete autostradaria regionale. In A1 possibili disagi per presenza di veicolo fermo in avaria verso sud tra Firenze Sud e in Cisareggello, per presenza di personale su strada tra Baldarno e in Cisareggello in direzione nord. In FIPRI troviamo rallentamenti per lavori tra Empoli ed Empoli Est per chi viaggia verso il capoluogo. Per regolare il traffico altrove. Ultima pagina per il traffico ferroviario. Nei mesi estivi proseguono i lavori per interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Prato-Bologna con interruzione della linea tra Bologna e San Benedetto fino all'11 agosto e dal 12 al 3 settembre dell'intera tratta Bologna-Prato. Il collegamento tra Prato e Bologna sarà effettuato con servizi bus sostitutivi. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio. Grazie.